Mi chiamo Francesca Salsano, ho 24 anni e sono nata a Milano. Ho un diploma di maturità classica e mi sono laureata in scienze umanistiche della comunicazione statale. Mentre studiavo ho iniziato a collaborare per una rivista di turismo, Travel Quotidiano. È stato il mio trampolino di lancio per iniziare a scrivere e per capire che nella vita volevo fare la giornalista. Dopo la laurea ho ottenuto un contratto di collaborazione con il cittadino di Lodi, per il quale ho coperto la mia zona, il sud Milano. Ho scritto di tutto, dalla cronaca pura allo sport, dalle interviste alle recensioni di libri. A fine 2006 sono diventata giornalista pubblicista. Nel 2007 ho approfittato di un viaggio stampa in Australia per fermarmi a Brisbane in tre mesi, inserirmi in una televisione nazionale per svolgere uno stage lavorativo. Ero a Channel 9, seguivo i reporter con le loro troupe e in redazione simulavo i servizi. Quando sono tornata in Italia, il cittadino non mi ha riconosciuto il praticantato necessario a divenire una giornalista professionista. Così mi sono iscritta alla scuola di giornalismo dell'Università Cattolica di Milano. Quest'estate ho fatto uno stage di tre mesi a Sky Sport 24. Ho imparato moltissimo e lo vedo come un possibile sbocco professionale per la mia carriera. Anche perché lo sport è parte integrante della mia vita. Da sempre adoro seguirlo e praticarlo.